Quanto vuole? Inauguriamo oggi la Space Propulsion Test Facility di Avio, un nuovo impianto sperimentale per provare le tecnologie del futuro per accedere allo spazio. Si tratta di propulsione innovativa a ossigeno liquido e metano. Il metano è un propellente pulito che caratterizzerà la capacità di accedere allo spazio dei prossimi vent'anni. In questo impianto, che sarà un fiore all'occhiello non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa, si potranno provare nuove tecnologie, misurare e sperimentare la loro performance prima di utilizzarla nello spazio. Questo sito non sarà solo un sito sperimentale ma anche un sito produttivo dove in parallelo alle attività sperimentali verranno realizzati componenti per sistemi propulsivi fatti in carbonio a matrice ceramica, un materiale fondamentale per le tecnologie del futuro.